Ciao, mi chiamo Azzurra Ruggero e ho 18 anni e vivo a Bracciano, in provincia di Roma. Vengo a scuola Bracciano, rinta in un liceo linguistico e le lingue che studio sono l'inglese, il francese e il tedesco. Le lingue mi piacciono assai, ma la mia più grande passione nella vita è la recitazione. In generale, se mi ha visto a descrivere ricerca che sono una ragazza molto determinata, solare e anche molto seria. La mia agenzia è la Cantera Management e i miei due profili sono questi. Penso di aver detto tutto. Ciao!